Prima di iniziare questo video volevo farvi vedere che cosa mi ha regalato la mia puzzola con la mamma della mia puzzola Guardate che meraviglia Evento più unico che raro oggi due ginnasti di livello Mi sono già rotto Due ginnasti di livello mondiale che è da un mese che preparano la loro coreografia Mi chiamo Yuri Gnecchi Yuri Gnecchi e Paolo Paolo Che ora si esibiranno al mio 3 nella coreografia che studiano da anni Pronti? 3 2 1 Via Bravi Come va? Tra l'altro non c'era l'audio perché c'era l'audio sbagliato perché avevo un microfono qui ma fa niente Non chiedetevi perché ci sia una gamba qui non è la sua Sono tornata con Sofia Lenda oggi Hello everyone Qui in palestra d'arcore Guarda Giulio È già morto poverino Mi sa che si è fatto male comunque oggi Andrea e Giulio saranno dei nostri perché faremo un video molto semplice e molto divertente dal titolo giochi in palestra Sono la mia cosa preferita da fare i giochi in palestra Un po' penso di tutti Fai vedere quanto è grande la palestra? Andremo su ogni trezzo e uno alla volta sceglierà un gioco da fare e gli altri dovranno replicare Compresi compresi Paolo e ignori i checchi Possono fare i doppi? E loro possono fare i doppi panini se vuoi Siamo pronti per iniziare giusto per farli entrare un po' nel mood io inizierei dal corpo libero quindi il primo gioco che voglio fare io è non lo so perché ora l'ho invento Toppa Sofì perché hai preso una palla? Ma sta il cuore di capa! Voglio giocarci a il capa la palla Aspetta Dobbiamo fare il vermo Ma perché il camera non è quello che si deve fare male? Che dobbiamo fare? Il vermo? Per far cosa? Lo scontro? No Oh bellissimo questo Però non ce l'abbiamo Io e Giulio riusciamo a farlo senza palla Forse avete visto il nostro primo gioco Sì io non l'ho ancora capito dopo due anni Si chiama il verme Dobbiamo fare questa cosa non lo so fare nemmeno io Bisogna sdraiarsi con la palla Buccia! E tornare in piedi Ne devi anche dire Buccia? Ovviamente Buccia! Vado io eh Io lo spero che scoppi Sai che ridere? Eh ma non sta ferma Guardi inizia neanche a sa fare una Buccia! Buccia! Sì dai dai Buccia! Vai di lombari vai Buccia! Buccia! Vai Giulio Buccia! Ma non è che si fora? No Io la ricompro se si fora Giulio falle esplode Giulio Parti tu a fare Buccia No no devo fare il cameraman Giulio Sai che se si rompe ti do mille euro Perché farà troppe visual Ma porca Eva mi ci lancio Buccia! Vado eh Buccia! Buccia! Ma l'hai missata! Devi andare sopra! Hai fatto bene? No! Pensati si Hai fatto bene di te Vai! Riprovo Aspetta perché ormai ci ha preso la mano L'ho visto ho visto Ha preso l'all'incorso pure? No piano Piano Vai 3 2 1 Vai! Buccia! Ma che viene di qua? Ma è perfetto! Vai signor perfetto Inizio col petto Andrè qui di mio po' dare No po' dare col petto Sì e poi dirgli Tutto il corpo Oh paurissimo Dai Andrè Ripaghi le spese mediche? Buccia Bravo! Bravo! Buccia! Buccia! Bravissimo! Ho strisciato come se si porta nel corpo Fa malissimo ma lì dobbiamo soffrire Ora andiamo sulla trave dai Per voi che non è troppo facile Andiamo sulla trave Arriviamo qui Diamo Buccia! E qua ci giriamo E via le caviglie E facciamo Buccia! Ok Vai Sofì E Gabbiano? Ecco Cammino Voi non fatelo così Anche io voglio fare così In mezzo facciamo Buccia a pennello Buccia a pennello Buccia a pennello Brava E buccia fuori Buccia fuori Voi senza abitamento Ma è buccia a pennello? Buccia a pennello Ok Cosa vuoi tu da me? Tocca a te No tocca a Giulio Non puoi iniziare sempre Giulio Ma sono il camera Me la vorrei Camera man Non ci usci più Eh È che se noi riusciamo E cadiamo Non lo voglio sapere Andre vai Ho già problemi a salire Sali Prendimi la mano Andre se vuoi Sì prendimi la mano Come si? No quello è marshmallow Andre Bravo È difficilissimo Perché devi stare Dal tappeto blu Andre Non da quello Quello è molle Mi dà lo strancio Ok Piega un po' le gambe Sì come se fai la cacca Non sopra poco se vuoi Guarda Wow Ma andiamo a vedere quanto è alto Bravo Ora buccia in piedi Vai un salto No Devi staccare in piedi Non buccia Non buccia Vai Vai Giulio Io in mezzo alle gambe Alla cosa mi vorrei mantenere Al massimo cadi giù Bravo Ma questo è duro Vai off Di niente Bucci Quando volete Non riesco Niente Scusate parto da qua È difficilissimo Vai Vai Giulio Ma quanto è stretta È una trave È una trave Rai è normale Sia stretta No ma è pure È molliccia È certo Scusa mi viene a fare Un attimo d'appoggio Non può farci d'appoggio Grazie amico Ok Ti abbandono eh No 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 Addio amico Vai Cammina un po' Ma dove cammino È sulla trave Cammina Si comincia ad andare di là Vai Giulio Come se cammini Ma non riesco a muovermi Allora fai un saltello Giulio Ho un consiglio Piega un po' le ginocchia Giulio piega un po' le ginocchia Che problemi Adesso salto Vai Bucci Bucci Salto sul posto È facile Non puoi rimanere là tutta la vita Io resto qua Vai No 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 Ripreso Buccia Ma qui Sì Buccia Bravo Prossimo gioco Il trampolone Papi Andre È il tuo momento del trampolone Faccio il tuffo del morto se vuoi Il tuffo del morto Sicuramente Finirà così Allora Che cosa Volevo Scandimi un po' il tatuaggio Che ne ho trovo Dicci un po' Andre Che cosa vuoi fare tu Il tuffo del morto Il tuffo del morto Se va bene Ma da lì È stato bello Vai Ma sei matto Ma fa dei rimbalzi Giulio E certo che devi andare là Bravo È uscito bene il tuffo del morto Non penso Sofì e lande Il tuffo del morto Ok Però aspetta Deve uscire lui Chi mi dà una mano a uscire Io ti posso dare un piede Più sembri morta Meglio è Beppe Questa È stuntman Vado col tuffo del morto Giulio Giulio Ero super morta Ero credibilissima Per ora sei stata la peggiore dei tre Lo sai Giulio stava per cadere C'è un buco anche lì Giulio c'è un buco comunque Io ho paura Vai vai Devo per forza saltare Non posso fare Sì Occhio per occhio Vai Occhio Occhio che scorta 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 Vieni con me No non voglio venire con te Non ti sale in due sul tram Oh sto cadendo No non voglio metti giuro Che non voglio farlo No non ti fa niente Al massimo muore Il tuffo del morto Vai in piedi Ho un consiglio Giulio Raga paurissima Piega un po' le ginocchia Piega così le ginocchia Vai Giulio non tutti con te Ho paura No ma non sono le ginocchia Se mi hai messo splinter Ho spinto con le gambe Vieni Quale Ma al posto Mi sa che non porto Giulio a zero gravity a fare il salto mortale Perché no? Eh Vai Non muoio di Se potessi saltare e fare la caperana in aria Di terrore Capito cosa devi fare Giulio? Stiamo un attimo sul tappeto Ah sì il problema è quello il tappeto Non ho rischiato la vita No È matta Vai Giulio Dai tre salti e vai fuori Tre per forza No anche dieci Che uno Vai Mi sono mosso Ma hai surfato Io ti ho visto Scusate se questo video sarà lunghissimo Bravo Bravo Ho paura Mi sembra quando Zacco fa la pipì dentro gli diciamo bravo La stessa cosa Non riesco a saltare Non si stacca La mia mano Ah ora che c'ho la mano Bravo bravo Ti ho visto volare Bravo Kimbo È passato un foglio alto così Sofì vai di là e diamogli la mano Non voglio la mano Da piano Bravo vai Bravo 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 Mamma mia che bravo Che divertente Bravo Bravo Bravissimo Ma non c'è l'ho fin là però Sì poi metti le mani Ci siamo No no adesso ce l'ha Ha la tecnica Vai Vai Giulio Bravo 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 Adesso Giulio è stato bello conoscerti Ciao Resto qua La parte di più difficile La cuglia mangia calzelli Ma non si esce Non ne mangia solo i calzelli Mangia anche i pantaloni Mangia tutto Vai Giulio ci sei quasi Ci sei quasi Dammi la mano amico Mi risucchia giù Questa è la parte più difficile della buca Sto peggiorando la situazione Perché È più forte di te Questo qua Questo qua Questo qua Questo qua Aiuto Grazie Mi venga ad aiutare signora Non se ne va Aspetta Se lo spingo Vengilo Che cosa sta succedendo Che cosa sta succedendo Che cosa sta succedendo Sembra un lucro Non voglio più farlo questo gioco Settimana prossima torniamo in palestra Vieni Prossimo attrezzo La parallela Andiamo Ah io voglio fare questa Però non so se ci arrivo Bravo Mamma mia E poi Mi devo tirar su Vai Poi Una mano Una mano Una mano Prova una mano Quella più forte Giulio La destra Vengo la destra Oddio 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 infilare le gambe e fare un pipistrellino, così. Oh, e viene sulla colazione. Capito Giulio cosa devi fare? A posto! Voi no! Vai Giulio! Mi insegno Sofialand la tecnica... Ma ci arrivo là almeno! Un saltino, vai! La tecnica del prosciutto di Parma. Bravo! Bravo! È proprio DOP! Vai su le gambe! C'era? C'era la sbarra che... Stava chiedendo perdono la sbarra. Domani non si muove Giulio. Ora vediamo il parma cotto come fa. Il parma cotto? Ti faccio vedere la mortadella se vuoi. Io vorrei farvi notare che non ho la magnesia, quindi se l'esercizio dovesse andare male... Mi spiace. Ok. Sì, ci arrivi anche così. Vai, piedi su. Eh no, di tirarsi i piedi e fare il pipistrello. Non serve la magnesia in questo da ciccio. Ti faccio l'aquila se vuoi. Vai. Così. Vai. Tranquilla. E tirato le gambe. I piedi... Non è molto diverso da quello di Giulio però. Ah vai su! Bravo dai! Ce la fai Andre! Ce la fai, ce la fai, fidati! Ma sei scema? Non so già più le spalle io. Ho un'idea. Fidatevi di me, il volteggio. Ma basta, ma quanto manca? Manca solo il volteggio. Ultimo esercizio, il volteggio con la posa finale. Consiste nel correre, battere sulla pedana, andare sulla lingua e fare una posa da super fighi. Siete pronti? Vi faccio vedere. Vado! È molto molto semplice. Sarebbe quella la posa da fighi? Ah ok. Sofia Land, vai! Wow! Thank you! Io ora farei andare Andre. Vai Andre inaugura. Dai Andre gamba! Non devi fare come Sofia. Sì! Perfetto! Sì! Bravissimo! Sofì stanno andando alla grande i nostri ragazzi. Vero? Sono veramente campioni. La sua rincorsa. Prende la rincorsa. E via! È andato! Quanto è veloce! No! Mio Dio è velocissimo! Ha missato la pedana. È fortissimo! Dai Giulio ce la fai! Tira fuori il fuoco che c'è dentro, la gastrite. No! Vai Giulio! Oh mio Dio! Sei tutti noi! Ma lo chiameranno lampo bianco dopo! Sì! Lampo bianco, forza! Vai lampo bianco! Uh! Corri così Giulio! Con le mani dietro! Vai! Ho paura! Ma di cosa? Non mordi! Ma è che è questa posa? No questa è con le mani come che è? Bravo! Bravo! Ma sei matta! Non mi hai detto che c'era! Il nostro piombo! Posa! Bravo! Perfetto! Sono andato bene! Benissimo! Adio! Guarda chi aveva i punti tirati! Aveva anche i punti tirati! Punti belle! Oh! Guarda che punti tirati! Lampo bianco! Come scendo! E non scendo più! Bene! Direi che questo video... Grazie a Dio si può concludersi qua! Può concludersi qua! Ringraziamo Sofia Land, il cameraman papiante! E Giulio che è rimasto qua in posa perché ha power in! E' altissimo! Guarda! Fateci sapere nei commenti chi è stato il migliore! Grazie! Grazie per avermi scelto! E scegliete nei commenti chi volete che noi portiamo in palestra! Se volete che li portiamo loro! Grazie per non avermi iscritto! Chi vuoi nella community! Da portare qui! Direttamente alla palestra di Ercole! E' tutto! Un bacio grande! Linea allo studio! E linea allo studio! Ci vediamo domani con il prossimo video! Aspettate che ora dobbiamo registrare i video di Anne! Bella! Ciao! 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 Ciao!